Fino a domenica al Teatro San Carluccio nella zona di Via dei Mille, la compagnia del teatro forsennato presenta Gli ebrei sono matti, di Dario Aggioli, ispirato a una storia vera. Durante il fascismo un medico torinese offre rifugio a un perseguitato ebreo mescolandolo ai pazienti di una clinica psichiatrica. L'evocazione del periodo storico fa interferire allora due diverse condizioni di marginalità sociale, ribaltando vero e falso in un contrapunto grottesco e cangiante. A Galleria Toledo, nei quartieri spagnoli, va in scena un sottile e ironico monologo a sette voci sul maschio contemporaneo e le sue piccole e ridicole ossessioni quotidiane che rimbalzano fra privato e sociale. Pezzi d'uomo è l'esilarante lavoro nato dalla collaborazione fra l'attore Giovanni Battaglia e l'antropologo Duccio Canestrini. Se per Shakespeare il mondo è un palcoscenico, per Arnold Wesker è una cucina. The Kitchen è una storia caleidoscopica che racconta il lavoro alle dipendenze di una multinazionale del fast food nel microcosmo vitalissimo e surreale di una cucina con segreti, tradimenti e cerimoniali erotici. In scena officina teatro nel quartiere casertano di San Leucio con la regia di Michele Pagano.